Sì, è ora l'appello dei turni ragazzi. Sono le otto. Forza che abbiamo un sacco di cose da vedere stamattina, sedetevi e state zitti. Ok, prima di tutto ci sarà un cambiamento nella prassi d'ora in avanti. Invece di dare ad ognuno di voi una copia dell'ordine nel giorno ne faremo soltanto una e sarà comunque vostra responsabilità prenderne quotidianamente visione. A proposito, ho parlato con Cali ieri, ha detto che i morsi stanno guarendo in fretta e dovrebbe essere di ritorno fra una settimana. Le selezioni per le Olimpiadi della Polizia saranno sabato mattina alle 10 a Quincy Park sul campo numero 3. Ok, ora vi daremo dei telex segnaletici e vorrei che stavolta li leggeste. Ne può andare della vostra vita. Intanto procederemo con l'appello e i turni. Allen e Mott. Io sono qui. 7A15. Sì. Freddie McQuire, 715-5. Cummings, 7M4-7. Dawson, qui. 7T2-3. Decker, 7M4-6. Donnelly, 7M5-6. Donnelly. Donnelly, ci sei? Molto divertente. Controlli subito, chiami il personale. Sì. Doherty, 7M2-7. Fred, dove è Donnelly? 7M4-9. Dicono che Donnelly è in vacanza da oggi. Chiami Maggie che ci trovi un sostituto. Crimaldi, 7T1-6. Wanner, 7M5-3. Brown. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Buongiorno, signora. Buongiorno a lei, agente. Qual è il problema? Mi fa vedere la sua patente, per favore. E anche il libretto. A subito.